Bentornati in un altro video del gioco Dragon Ball Z Budokai Tenkai C3 Nella scorsa battaglia Gon si è trasformato in Super Saiyan 2 ed è riuscito a sconfiggere i Cell di Honor Ma ora cercherà di sconfiggere il vero Cell che si è trasformato nella sua forma perfetta Grazie a tutti Ah! Grazie! 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 That's the way! Oh, this is fun! Heh, do your best! Give him now our kiss! Grazie! Grazie! I'm so sorry, Dad! Because I got so carried away! Grazie! Grazie! I'm having a good time over here! Grazie! 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 I'm not using your whole power! You have to let it all out! Go! Grazie! 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 You finally get it, Gohan! Grazie! 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 Grazie a pouco見i Buongiorno you if the video are apport claiming to see why! E perché?